Questo invece è il reparto notte con due letti sempre montati. Ogni letto ha la sua finestra, i suoi due armadietti esclusivi più una serie di armadietti di coda. Oglo panoramico. Scaletta aggiuntiva se si vuole unire i due letti gemelli e avere un accesso alternativo alla scala normalmente utilizzata. Al di sotto della quale c'è un vano abbastanza spazioso. Gli armadi sono sotto ai letti, sono illuminati. Prevedono un appoggio illuminato per gli abiti, più una serie di scaffali per maglioni, asciugamani, biancheria, ecc. Grazie.